È iniziata la giornata commerciale del ribasso a Portighera, organizzata dalla Confcommercio in collaborazione con il Comune. Per l'occasione il centro città si è infatti trasformato in un'isola pedonale dello shopping. Cittadini e turisti, nonostante il caldo, questa mattina hanno fatto acquisti tra le bancarelle e i mercatini dell'artigianato e l'angolo del gusto, ascoltando la musica in filo di fusione che animerà l'intera giornata.